La bozza di parere è sostanzialmente condivisibile, quindi penso che sia un lavoro molto positivo. Mi permetto di fare tre sollecitazioni per rafforzare tre questioni, sulle quali poi eventualmente presenteremo degli emendamenti. Il primo è relativo al settore economia competitiva e sostegno ai giovani, dopo che sono stati previsti impegni per più di 83 miliardi di euro. Sarebbe auspicabile che queste risorse, laddove non impegnate, possano essere riprogrammate a favore di interventi infrastrutturali per rafforzare la connettività tra le aree, la tutela e la salvaguardia ambientale. Il secondo punto è quello relativo al rafforzamento della difesa. C'è una riduzione degli stanziamenti dell'1,5% rispetto allo scorso anno, quindi è molto importante dal mio punto di vista che ci possa essere un sostegno prevedendo misure a favore degli Stati membri che sono impegnati in prima linea a fronteggiare l'emergenza migratoria. Il terzo punto è quello relativo ai cambiamenti climatici. Come è noto c'è un maggiore stanziamento, è un tema che è stato sollevato da più colleghi, però sarebbe auspicabile che si prevedessero maggiori risorse, soprattutto per quegli Stati membri che si trovano a contrastare delle calamità naturali e che sono afflitti da fitopatie. Qui faccio un esempio specifico che sta devastando parte importante di un territorio, quello della xylella fastidiosa nel sud Europa. Ecco, su questi tre punti cercherò di formalizzare poi degli emendamenti per rafforzare il lavoro che comunque è positivo, sul quale esprimo un giudizio positivo da parte del Presidente. Grazie.